ciao ragazzi benvenuti questa sera trasmettiamo in live perché diciamo che facciamo prima è troppo bello il giocatolo nuovo che c'è stasera allora stasera ero dal mio amico negoziante l'imperia lepre un negozio che si trova di musica e praticamente ho preso questo zoom l'h1 n praticamente è un registratore a tutti gli effetti che ha la possibilità di campionare i file sia in formato wav che in formato mp3 all'interno della scatola diciamo che aprendola non è che c'è tanto di più anche perché è un registratore diciamo di fascia media anche se ha un rapporto qualità prezzo molto conveniente questo registratore è praticamente ho già aperto la scatola ho già fatto qualche prova diciamo che è un po un giocatolino perché se fate conto queste sono le dimensioni queste sono le dimensioni di un iphone quindi è praticamente tascabile piccolo permette di fare praticamente tutto l'unica cosa che non fa è il caffè o qualcosa di poco meno il questo registratore qua permette di registrare attraverso questi due microfoni questi che sono rivolti a 90 gradi e praticamente permettono di registrare bidirezionale in modalità stereo andiamo a vedere da vicino troviamo qui i due microfoni il regolatore del volume d'ingresso il display accendendolo col tasto d'accensione il display è retroilluminato cerco di farvelo vedere meglio aspettiamo che nel frattempo si spegna la luce sul display le informazioni che vengono date è la tipologia del file se siamo collegati tramite usb o con memory card per la registrazione la durata di quanto spazio ci rimane ancora prima che esauriamo la memoria e vengono dati tramite questi tasti che ci sono qua sotto le informazioni aggiuntive ci sono questi tasti del play opzioni per le tracce questo pulsante qua per registrare questa è una piccola cassa che permette di registra di sentire quello che abbiamo appena registrato sul lato laterale abbiamo qua così la presa line out per poter sentire in diretta tutto quello che sentiamo tramite delle cuffie jack questi sono i tasti del volume più e meno sull'altro lato abbiamo la presa usb dove è possibile collegare anche l'alimentazione da 5 volt tramite un caricatore di cellulare praticamente per poterla alimentare abbiamo il pulsante di accensione e di blocco tasti qua bloccato qua per l'accensione il tasto per eliminare le tracce lo spazio per la porta usb praticamente dove c'è l'alloggiamento all'interno e vi è la possibilità di collegare un microfono esterno che nel momento in cui questo microfono è attiva è collegato disattiva questi due microfoni qua ha dei programmi che si possono scaricare tipo qbase o web lab il bello di questo che anche qua dietro come potete vedere lo spazio per due pile mini e ha la possibilità anche qua di alla possibilità qua di collegarsi per dire a un cavalletto con la solita presa classica quindi noi avremo il jobby gorilla che abbiamo già visto la recensione lo colleghiamo sul cavalletto e abbiamo la possibilità di come vedete collegarlo e mantenerlo stabile in qualsiasi posizione noi vogliamo questo cosa ci dà la possibilità allora due cose la prima che nel momento in cui noi andiamo in modalità registrazione infatti vedete più o meno vedete che comunque sta registrando e lui adesso è acceso e sta registrando il livello della mia voce quindi premendo poi il tasto rec dalla possibilità di comunque registrare e riascoltarlo dopo facendo una prova noi qua adesso registriamo i microfoni stanno registrando quindi lui capta tutto quello che arriva di suono e vi posso far sentire il bello che con nove tasti riusciamo praticamente a fare di tutto perché nella prima modalità di registrazione possiamo andare a scegliere la tipologia di audio che noi vogliamo cioè se in un formato uova un formato mp3 sapete che il formato uav è il formato quello più utilizzato perché comunque è un file più grande che non è compresso a differenza dell mp3 ed ha la possibilità di selezionare varie tipologie di di formati questi due microfoni sono stereo a 90 gradi i formati che si possono utilizzare sono l'uav da leggo perché sono cifre e non me li ricordo tutti a memoria da 44.1 kilohertz da 16 bit a 48 kilohertz 16 bit 48 kilohertz 24 bit 96 kilohertz 24 bit per quanto riguarda il formato uav il formato mp3 che è il file compresso quindi ci darà possibilità di registrare molto di più sono 48 chi kbps 128 kbps 256 kbps 320 kbps il connettore di ingresso sono due jack sia per la cuffia che per il microfono sono due jack mini le uscite mini jack sono combinate sia cuffia che microfono quindi riesco a sentire in tempo diretto quello che io praticamente sto dicendo o comunque che sto registrando al regolatore qua sopra del livello di ingresso dell'audio che posso anche disabilitare e andare in automatico ha una cassa piccolina che diciamo per primo utilizzo vedere cosa ne è uscito da un'idea poi arrivati a casa in post produzione con editing si può importare il file su qbase o wav lab dopo di che si prende il file lo si importa nel nostro programma di editing video e si può montare tranquillamente i nostri video la peculiarità di questo agge gino è una è praticamente multifunzione cioè lo possiamo utilizzare praticamente ovunque lo possiamo utilizzare come microfono collegato col cavo usb al computer per registrare direttamente in stereo se non vogliamo utilizzare praticamente il microfono del computer lo possiamo collegare al cellulare e utilizzarlo anche come microfono lo possiamo utilizzare facendo magari dei moto moto vlog oppure andando in bicicletta collegando un microfono esterno questo lo mettiamo tranquillamente in tasca il microfono messo nel casco e riusciamo a registrare con una qualità diciamo eccellente per quanto costa lui permette anche da qua col suo menu di poter tagliare già degli spezzoni di spezzoni riprodurre in vari formati convertirli e oltretutto ci dà la possibilità di essere distaccati da quello che è avere un cellulare da quello che è avere un microfono da quello che è avere un microfono tipo questo e un microfonino così diciamo giocattolo e ci permette di poter creare i video a nostro piacimento come vogliamo anche perché il costo di questo apparecchietto qua è praticamente irrisorio con 80 90 euro lo troviamo online o comunque tramite il nostro il negozio che vi ho detto prima imperia se voi siete se c'è qualcuno imperia lo trovate perché comunque ne hanno sempre questo è diciamo una piccola descrizione perché l'unboxing vera e proprio c'è la recensione vera e propria la farò dopo e lo utilizzerò come corredo per i miei nuovi video lo collegherò all'iphone lo utilizzerò come microfono esterno oltre al quello che già sapete i video in questo periodo proseguiranno diciamo con qualche prova in esterno perché voglio sfruttarlo e vedere realmente quali sono le sue potenzialità e quali sono i suoi limiti con questo vi ringrazio vi mando un saluto ci vediamo comunque sempre qua su sul mio canale paolino paolo ferrando vi ricordo iscrivetevi al canale accendete la campanellina la campanellina per rimanere aggiornati sulle notifiche e di qui ci vediamo alla prossima grazie e rimanete in contatto buona serata